Pietro Fanelli ha reagito sui social media alle critiche di Fedez. L'ex concorrente di un reality show ha interpretato i commenti di Fedez che aveva etichettato come noioso una puntata di un programma televisivo in cui entrambi erano ospiti come un attacco personale. Di conseguenza Fanelli ha deciso di replicare attraverso le sue storie su Instagram. L'ex naufrago ha annunciato l'intenzione di dire la sua surreality. Appena arrivo in Italia mi siedo in un posto comodo e pubblico un video in cui mi esprimo sull'argomento dell'isola dei famosi. La prima stoccata però è contro Fedez. Il rapper infatti ospite del podcast Gurulandia aveva commentato una sua vecchia puntata di Muschio Selvaggio in cui si lamentava di un ospite. Era tipo un intellettuale teatrante. Non mi ricordo nemmeno chi ca' era. Due co' una pa'. Infatti è stata la puntata meno vista di Muschio Selvaggio. Pietro Fanelli leggendo nelle dichiarazioni un riferimento a se stesso ha quindi deciso di rispondergli via Instagram. Caro Fedez, nano burattino piccolo uomo, ringrazia quell'intellettuale teatrante, come lo chiami tu, di averti rivolto parola e di essersi presentato nel tuo podcast in cui sei l'unico a non avere niente di interessante da dire. Curioso però sei la persona che parla di più. Si legge nelle storie pubblicate da Pietro Fanelli. L'ex concorrente dell'isola ha poi continuato parlando della noia. Non ne sai nulla. Dalla noia si crea. La noia ormai si è estinta. Questo è un immenso problema. Questi oggetti tossici, chiamati cellulari, hanno eliminato la noia. Il messaggio si conclude con una frecciatina riguardante la vicenda legale che ha coinvolto Fedez e Chiara Ferragni. Continua a fare la tua beneficenza, che mi ricorda tanto lo scandalo delle indulgenze.